Harrison Diller se n'è andato 5 mesi fa, 96enne, il più anziano campione olimpico in vita in quel momento. Il mondo era già diverso anche solo 5 mesi fa, ma pensate a quanto fosse diverso negli anni 30 del secolo scorso, quando il giovane Diller, adolescente, immagina se stesso e sogna se stesso diventare un atleta. Ha un mito, Jesse Owens, afroamericano come lui, capace di vincere le sue medaglie a Berlino di fronte agli occhi di Adolf Hitler. Ma quel sogno si interrompe perché scoppia la seconda guerra mondiale. Diller viene arruolato nel battaglione dei Buffalo Soldiers, proprio quello che dà il nome alla famosa canzone di Bob Marley. Pensate, un battaglione composto esclusivamente da soldati afroamericani di colore, gli All Blacks dell'esercito americano. Viene mandato in Italia a combattere, in provincia di Lucca, però la guerra finisce, lui ritorna in patria, se ne salvo e ricomincia la sua carriera di atleta. Diventa uno specialista straordinario dei 110 ostacoli. Vince 82 gare consecutive, fino al giorno dei trial, la gara che negli Stati Uniti determina chi andrà ai giochi, che sono quelli del dopoguerra, Londra 48. Beh, in quell'occasione, dopo 82 vittorie consecutive, Diller inciampa nei primi tre ostacoli e si ritira al settimo. Non perde però tempo per lamentarsi, si scrive nei 100 metri piani, non è certa la sua specialità, arriva però terzo, rocambolescamente strappa il biglietto per Londra, dove il 31 luglio del 48, nella magica atmosfera dello stadio Wembley, disputerà la finale. Finale che si svolge con un testa a testa contro Bernie Ewell, americano anche lui, quello che aveva vinto i trials nell'occasione precedente. Sono spalla a spalla fino al traguardo, cade il filo di lana, Ewell salta di gioia, è sicuro di avere vinto, è convinto di avere vinto, ma per la prima volta nella storia dei giochi olimpici serve il photo finish e dopo un rapido controllo si scopre che ha vinto Dillard. Vincerà anche nella staffetta 4%, ma la giustizia sportiva farà il suo corso perché a Helsinki 52, 4 anni dopo, Dillard vincerà anche la medaglia d'oro nella sua gara, i 110 ostacoli. Insomma, quegli ostacoli che lo avevano fermato ai trials del 48 diventarono il modo per poter scrivere per sempre la storia, perché Dillard tutt'oggi è l'unico atleta a aver vinto nella velocità e negli ostacoli ai giochi olimpici.